come scusa? per gente come me fammi vedere la bottiglia di vino qual'è la mia personale che principe di uomo mi chiamano e mi dice vuoi rosso o vuoi bianco bolle o non bolle yuhuuu è arrivato ferma i bus un momento arriva arriva non riesco a trovare la canzone quale? oh è bella quella di marie frula e la jennifer lopper con da dei frutti lavori in latiere dannestri friuuuu orco ferma i bus tessi che è rotto tutto no, no, no ferma i boss io ho fatto il gosso ma non si fa questa canzone ferma i boss di solito io mi so che ferma i boss 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 no aspetta che vado il maio ferma i boss ferma i boss ferma la mamma ferma i boss canta canta mauri canta canta ferma i boss ferma i boss ferma maurizio allora allora è bersani no ocio ocio no mate non è bella la canzone di bocelli con la jennifer lopez bellissima ma qual'è ma dimmi com'è ma qual'è ma qual'è non ti vieni su cercala 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 che bellissima va bene come si chiama jenifer lopez che canta anche lui di houston ha fatto no evviva il riso io che magna oh quanto mamma mia è bella non ti piace ma magari l'ho già sentita silenzio che l'ascolti ma è meglio il sistema di silenzio oddio bello oh beccio beccio è dura questo giro eh molto dura è questa è questa ma che for my boss è jennifer lopez marchi io lo so ma qui mangiano solo due ahhh evviva secondo round che bello che bello che bello ah ma è una canzone vecchia rifatta è buona sì sì bellissima non 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 touch 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 questa è bella parlare in due marchi vai